rosario del giorno 22 aprile 2018 meditazione dei misteri gloriosi nella quarta domenica di pasqua aiutaci a diffondere la priera iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per ricevere le preghiere pubblicate fai il passaparola con i tuoi amici su facebook ed altri social ti ringraziamo e che il signore ti benedica credo in un solo dio padro onnipotente creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo signore gesù cristo unigenito figlio di dio nato dal padre prima di tutti i secoli dio da dio luce da luce dio vero da dio vero generato non creato della stessa sostanza del padre per mezzo di lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello spirito santo si è incarnato nel seno della vergine maria e si è fatto uomo fu crucifisso per noi sotto ponzo pilato morì e fu sepolto il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture è salito al cielo siede alla destra del padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti e il suo regno non avrà fine credo nello spirito santo che è signore e dalla vita e procedo dal padre e dal figlio con il padre il figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la chiesa una santa cattolica e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta fra le donne tu sei benedetta fra le donne prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta benedetta fra le donne e 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 benedetta Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero glorioso meditiamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via da sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria, O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi. Nel secondo mistero glorioso, vogliamo meditare l'ascensione di Gesù al cielo, Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero glorioso, vogliamo meditare la discesa dello Spirito Santo su Maria agli Apostoli. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento, che si abbatte Gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro cinque lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava a loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero glorioso, vogliamo meditare l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Tutte le generazioni mi chiameranno Beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'odato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quinto mistero glorioso, vogliamo meditare l'incoronazione di Maria Vergine, Regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Litanie lauretane Signore e pietà, Signore e pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore e pietà, Signore e pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio prega per noi, Santa Vergine delle Vergini prega per noi, Madre di Cristo prega per noi, Madre della Chiesa prega per noi, Madre della Divina Grazia prega per noi, Madre Purissima prega per noi, Madre Castissima prega per noi, Madre Sempre Vergine prega per noi, Madre Immacolata prega per noi, Madre Amabile prega per noi, Madre Ammirabile prega per noi, Madre del Buon Consiglio prega per noi, Madre del Creatore prega per noi, Madre del Salvatore prega per noi, Vergine Prudentissima prega per noi, Vergine degna di onore prega per noi, Vergine degna di lode prega per noi, Vergine potente prega per noi, Vergine clemente prega per noi, Vergine fedele prega per noi, Specchio di perfezione prega per noi, Sede della Sapienza prega per noi, Causa della Nostra Letizia prega per noi, Tempe dello Spirito Santo prega per noi, Tabernacolo dell'Eterna Gloria prega per noi, Dimora tutta consacrata Dio prega per noi, Rosa mistica prega per noi, Torre di Davide prega per noi, Torre d'Avorio prega per noi, Casa d'Oro prega per noi, Arca dell'Alleanza prega per noi, Porta del Cielo prega per noi, Stella del mattino prega per noi, Salute degli infermi prega per noi, Rifugio dei peccatori prega per noi, Consolatrice degli afflitti prega per noi, Aiuto dei cristiani prega per noi, Regina degli angeli prega per noi, Regina dei patriarchi prega per noi, Regina dei profeti prega per noi, Regina degli apostoli prega per noi, Regina dei martiri prega per noi, Regina dei confessori della fede prega per noi, Regina delle vergini prega per noi, Regina di tutti i santi prega per noi, Regina concepita senza peccato originale prega per noi, Regina assunta in cielo prega per noi, Regina del Santissimo Rosario prega per noi, Regina della famiglia prega per noi, Regina della pace prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo resi degni delle promesse di Cristo, preghiamo. O Signore Dio, concede a noi Tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata, sempre Vergine Maria, di essere liberati dalle angustie della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo, nostro Signore. Amen. A Te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il Tuo patrocinio insieme con quello della Tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che Ti strinse l'Immacolata Vergine e Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col Suo sangue e col Tuo potere aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, le letta parole di Gesù Cristo, allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dallo stile insidie e da ogni avversità e stendi ognora sopra ciascuno di noi il Tuo patrocinio, affinché a Tuo esempio e mediante il Tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo, sii Tu il nostro sostegno. Che Dio eserciti il suo dominio su di Lui, noi supplichevoli lo preghiamo e Tu, Principe delle milizie celesti, ricacciare l'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Amen. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Preghiera al Cuore Immacolato di Maria O Cuore Immacolato di Maria, colmo di bontà, mostra il Tuo amore verso di noi. La fiamma del Tuo cuore, O Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi Ti amiamo immensamente. Imprimi nei nostri cuori il vero amore così che abbiamo un continuo desiderio di Te. O Maria, mite umili di cuore, ricordati di noi quando pecchiamo. Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per mezzo del Tuo Immacolato e Materno Cuore, di guarire da ogni malattia spirituale. Fa che sempre possiamo guardare la bontà del Tuo cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del Tuo cuore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. M.M. Hosting è un canale cattolico di preghiera. Per ricevere aggiornamenti quando pubblichiamo un nuovo video, iscriviti al canale e clicca la campanella. Aiutaci a crescere e diffondere la preghiera. Per crescere abbiamo bisogno di Te.